Il migliore, sabato 2 febbraio 2019 Lo show che ha conquistato le piazze italiane finalmente a teatro Il tributo definitivo alla monumentale carriera del più grande showman italiano Non è un tributo qualunque, è il migliore E quando è questo spettacolo? Il 2 febbraio Dove? Al Teatro Italia da Cerra Non si può cambiare il nome della città Io sono solamente lo speaker di questo spot Vabbè in fondo mi piace la Cerra, non è male Il 2 febbraio E basta, è finito lo spot Il 3 febbraio